L'elezione di Livio Petitto in Consiglio regionale non era scontata, la sua è stata definita da più parti un'impresa perché, dopo l'esclusione dalle liste ufficiali del PD, l'esponente dell'area che fa riferimento a Umberto del Basso De Caro ha deciso di correre con davvero partito animalista a sostegno di De Luca. Oggi è l'unico esponente a Palazzo Santa Lucia della formazione che aveva già sostenuto il sindaco Gianluca Festa lo scorso anno alle amministrative e lui, il primo cittadino di Avellino, legge in questa vittoria di Petitto anche un'affermazione personale e rilancia il progetto politico di Davvero pronto ad assumere un perimetro più ampio. Ma guardi, credo che ormai siamo una realtà consolidata, abbiamo espresso di fatto il sindaco del capoluogo, abbiamo eletto un consiglio regionale, probabilmente la prossima tappa sarà la presidenza della provincia e credo che non ci fermeremo qui. Parlavo con gli amici, Michele Ragosta e Stefano Buono, presenteremo una lista al Comune di Napoli, probabilmente saremo anche presenti a Roma e Milano con nostre espressioni, al di là delle appartenenze partitiche di ognuno di noi ormai siamo una realtà consolidata. Festa alla fine rottama tutti, a cominciare dal segretario regionale del Partito Democratico. Vedo che le dimissioni di annunziate di Cernamo siano un atto dovuto, dopo la figuraccia che hanno fatto. A festeggiare competito non solo Festa e D'Agostino ma anche Michele Ragosta, tra i fondatori del Movimento Davvero e Stefano Buono, capolista nel Collegio di Napoli. Petito, si dice, pronto a rappresentare il territorio. Il nostro impegno era stato costante nel corso degli anni perché non ci si può improvvisare, infatti il risultato di qualcuno ne è una dimostrazione. La campagna elettorale per i regionali dimostra un forte nostro radicamento sul territorio e poi il risultato ci riempie di responsabilità e sicuramente ottempereremo le migliori demoni per il mandato che è stato conferito.